Bonjour, buenos dias, good day, guten tag, konnichiwa. Alimentiamo le nostre affinità nel rispetto delle diversità. Questo è il titolo della manifestazione che ieri pomeriggio si è svolta presso l'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Sciacca nell'ambito del macro progetto verticale d'Istituto C'è posto per te, coordinato dall'insegnante Maria Vittoria Picone. Il progetto, centrato sui temi di carattere inclusivo, sul rispetto delle differenze e sul dialogo tra le culture, ha previsto il coinvolgimento di associazioni impegnate nel processo di integrazione sociale, quale l'Associazione Paideia e delle classi quarte di scuola primaria e delle classi seconde di scuola secondaria, unitamente ad altri bambini di diverse etnie frequentanti la scuola. I ragazzi hanno dato vita ad uno spettacolo nel corso del quale sono stati rappresentati, attraverso canti, balli e recite, i momenti più significativi del percorso educativo-didattico legato all'alimentazione in chiave multiculturale. Il progetto, centrato sui temi di carattere inclusivi del percorso educativo-didattico. Il progetto, centrato sui temi di carattere inclusivi del percorso educativo-didattico. E' seguito il momento davvero significativo in cui ciascun bambino accompagnato dalla propria madre si è presentato dando indicazione della propria nazionalità. Poi ciascuna mamma ha presentato un piatto tipico della propria terra. A chiudere la manifestazione, naturalmente la degustazione dei prodotti preparati dalle famiglie. Un momento quindi all'insegna della conoscenza, del confronto e della condivisione. Pure uguali con una voce sola, un sacco di pensieri ma il mondo corre e vola. Diverse pure uguali, miliardi di parole, testette in un sorriso, non ci faranno sentire soli.